Sul fronte del precariato del settore sanitario, grazie all'assessore alla salute Razza, si sta dando un'accelerata. Sono infatti in aumento le stabilizzazioni, ma è sul fronte del bando emanato dal ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia, che riguarda anche le direzioni di Aspe e presidi ospedalieri, che qualcosa scricchiola. Chi governa deve porsi al centro della propria agenda il tema del lavoro. Io l'ho fatto sul fronte delle stabilizzazioni. Dovremmo continuare a lavorare in questa direzione perché nei prossimi anni, non sarà possibile vederlo in pochi mesi, ma certamente in prossimi anni sì, daremo una risposta all'attesa di lavoro del popolo siciliano. 38 i siciliani che si sono proposti per 18 posti tra Aspe e presidi ospedalieri. Un avvicendamento e qualche ricorso che qualcuno sta proponendo? Per quanto riguarda i ricorsi, so che c'è qualche escluso dall'elenco nazionale che sta proponendo il ricorso. È una procedura diversa. Non fatemi fare l'avvocato, che è cosa non utile soprattutto per dare consigli a tutti, però posso dirvi che la procedura non può essere intaccata dai ricorsi che determinano un'aspettativa all'essere presenti nell'elenco nazionale, ma che non possono bloccare una procedura regionale.